Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale. Oggi voglio proporre qualcosa di diverso dal solito, non un tutorial né una guida pratica, ma una reaction, una riflessione critica su alcuni temi legati all'intelligenza artificiale. Questo video nasce in particolare da due spunti, una recente dichiarazione di Dario Fabri in un suo intervento online e alcune esperienze che ho avuto in aula con studenti delle scuole superiori. Questi due elementi mi hanno portato a riflettere su come l'AI venga percepita oggi, su quanto sia ancora fraintesa e su quanto lavoro ci sia ancora da fare per comprenderla pienamente. Cominciamo con la dichiarazione di Dario Fabri, che ha definito l'intelligenza artificiale una grande operazione di marketing. Questo commento mi ha colpito perché, pur trovandolo interessante, credo che non renda piena giustizia alla complessità e alla portata dell'AI. Rispetto il punto di vista di Fabri e capisco perché potrebbe avere questa opinione, specialmente considerando come spesso la narrativa sull'AI si è accompagnata da promesse esagerate, da una certa retorica sensazionalistica. Tuttavia, se guardiamo più da vicino, vediamo che l'AI oggi non è un semplice slogan, è una realtà tangibile, basata su machine learning, deep learning e AI generativa, sostenuta da miliardi di dollari di investimenti globali. La sua influenza è già evidente in molte aree della nostra vita e sta trasformando settori che vanno dalla medicina al marketing, dalla creatività all'istruzione. L'intelligenza artificiale sta cambiando radicalmente il mondo del lavoro. Nuove professioni nascono, altre si evolvono, con una rapidità che sfida a volte la nostra capacità di adattamento. Penso ad esempio alla medicina dove gli algoritmi avanzati di AI stanno migliorando l'accuratezza diagnostica, personalizzando l'assistenza clinica, oppure penso alla creatività, strumenti di generazione automatica di immagini, testi e suoni che stanno ampliando le possibilità creative per artisti e designer, creando nuove opportunità espressive e abbattendo alcune barriere tradizionali. Inoltre, l'AI sta trasformando anche l'educazione, il marketing e persino la nostra comprensione di noi stessi, se vogliamo, come esseri umani. Dire che tutto questo è solo marketing riduce drasticamente la portata di ciò che sta accadendo. Certo, ogni tecnologia emergente ha il suo lato promozionale, soprattutto quando bisogna tirare investimenti all'attenzione del pubblico, ma ridurre questa tecnologia a tutto questo significa ignorare la sua complessità, i suoi impatti e le sfide etiche e sociali che pone. Quello che vediamo oggi, peraltro, è solo la punta dell'iceberg. Sotto la superficie c'è una trasformazione profonda che sta rimodellando il nostro mondo. Ora vediamo al secondo spunto, la mia esperienza in classe. Noto che molti studenti usano strumenti come ChatCPT quotidianamente, sia per fare i compiti, sia per cercare semplicemente nuove idee. Questi strumenti stanno diventando parte della loro vita quotidiana, quasi come un'estensione delle loro capacità cognitive. Tuttavia, quando parlo loro della necessità di usare queste tecnologie con consapevolezza e responsabilità, noto spesso reazioni perplesse, come se li stessi incoraggiando a fare qualcosa di sbagliato. E questo mi fa sorridere perché mostra quanto siamo ancora lontani dal pieno accoglimento di queste nuove tecnologie. La percezione che le AI possa essere uno strumento utile, ma che vada usato eticamente, sembra ancora difficile da accettare per molti. Questa resistenza è comprensibile, riflette una fase di transizione culturale. Da un lato c'è entusiasmo per il potenziale degli strumenti di AI, dall'altro c'è paura e diffidenza verso il cambiamento che portano. Non solo gli studenti, ma anche molti adulti vedono l'uso delle AI come una forma di imbroglio, un modo per evitare l'impegno reale. Penso che sia fondamentale cambiare questa narrativa. Le AI non è un sostituto della nostra intelligenza, ma piuttosto un complemento che può ampliare le nostre capacità, può aiutarci a essere più efficienti, a esplorare nuove idee, a realizzare cose che prima sembravano impossibili. Tuttavia ciò richiede un cambiamento di mentalità, richiede che iniziamo a parlare apertamente dei benefici, dei limiti e delle implicazioni etiche delle AI. E allora cosa possiamo imparare da questi due spunti? Credo che ci sia ancora moltissimo da dire sull'intelligenza artificiale. Dobbiamo discuterne, analizzarne gli sviluppi, capire come influenzerà le nostre vite. Le AI non è solo una tecnologia, è un cambiamento che riguarda il modo in cui viviamo, lavoriamo e pensiamo. È una rivoluzione che ci mette di fronte a domande cruciali su cosa significa essere umani in un mondo dove le macchine diventano sempre più capaci di lavorare insieme a noi. E se continuiamo a considerarla una moda passeggera o una semplice trovata pubblicitaria, rischiamo di perdere di vista l'opportunità di comprendere qualcosa di molto più profondo. L'intelligenza artificiale non riguarda solo gli ingegneri o gli scienziati, riguarda tutti noi perché sta entrando in ogni aspetto delle nostre vite. Se non iniziamo a discuterne in modo serio e consapevole, rischiamo di esserne travolti, travolti da un cambiamento che non ci darà poi la capacità di influenzarlo. Per questo motivo ritengo che sia fondamentale continuare a parlare di AI, studiare i suoi sviluppi, educare le nuove generazioni e noi stessi su cosa significhi veramente convivere con l'intelligenza artificiale. A questo punto mi piacerebbe sapere cosa ne pensate. Credo fermamente che solo attraverso il dialogo potremo davvero comprendere ciò che sta accadendo e come affrontare questo cambiamento in maniera positiva. Alla prossima!